buongiorno dagli studi di obiettivo news oggi 5 febbraio e sant'agata ed è anche la giornata mondiale della nutella e quella contro lo spreco alimentare il world nutella day è nata spontaneamente nel 2007 da una blogger americana sarah rosso la festa è diventata un fenomeno globale per gli amanti della nutella che ogni anno condividono sui social foto ricette poesie e messaggi nel 2014 invece è stata istituita la giornata nazionale contro lo spreco alimentare ideata dalla campagna spreco zero l'università di bologna con il ministero dell'ambiente per iniziativa del coordinatore pimpas andrea segret sin dalle sue origini il significato della ricorrenza e sensibilizzare le persone sull'argomento invitando tutti noi a riflettere sul quotidiano comportamento e a modificarlo in questo modo è possibile infatti salvaguardare il bilancio familiare e aiutare il pianeta buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti